Ben trovati, amici del Centro Meteo Italiano. Il weekend si apre sotto il segno di una nuova perturbazione atlantica. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per sabato 23 novembre. Al mattino, maltempo al nord-ovest con acquazioni temporali ma anche neve abbondante sulle Alpi oltre i mille metri. Piogge sparse anche al nord-est sulla Sardegna, asciutto altrove. Al pomeriggio, precipitazioni sparse bagneranno sempre le regioni settentrionali e la Sardegna, con nevicate sull'arco alpino fino ai mille-1300 metri. Più stabile al centro-sud salvo qualche temporale in Sicilia. In serata e inottata, il maltempo raggiunge le regioni meridionali con fenomeni anche a carattere di nubifragio, specie sulle isole maggiori e sulla Calabria. Tempo instabile ancora al nord-ovest sul versante tirrenico ma in progressivo miglioramento. Concludendo con le temperature, queste tenderanno ad aumentare sia nei valori minimi che in quelli massimi. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.